Musica Oggi abbiamo ospitato questo convegno appunto dalla Smart City e la Smart Land e secondo me è un messaggio importante, non possono esistere Smart City se non esistono le Smart Land noi abbiamo dei territori che possono crescere sulla base delle tecnologie innovative ma anche su progetti territoriali, l'idea è quindi di fare dei territori il punto di partenza per servizi, per opportunità a partire dai servizi sanitari, quelli scolastici e quelli di prossimità quindi noi siamo disponibili per affiancare questo progetto sul piano tecnologico, sul piano urbano, sul piano sociale, sul piano economico l'innovazione è la parola chiave e speriamo di essere efficaci da questo punto di vista Grazie a tutti